sembra strano ma sto partendo per andare per funghi il contesto qua è questo non proprio da funghi no 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 vai tranquillo passa pure con lumaca annessa allora io voglio andare qua voglio andare un po' più qua qualcuno l'ha schiacciato c'è un giovin in giallo un volotto da sottoglio un po' più qua 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 un po' più qua